Si tratta del Vice Presidente del Consiglio e del leader della Lega e quindi quella è solo una piccola parte di quello che ci potrà dire. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Non parlo da segretario della Lega, se volete venire a sentire un comizio della Lega verrete a una festa della Lega. Parlo da Ministro dei Lavori Pubblici, Infrastrutture, Trasporti, Casa. Ho sentito le sollecitazioni di chi c'era prima. Devo dire che in questi 11 mesi di governo abbiamo approvato un codice degli appalti che attendeva da 7 anni di essere rinnovato. Abbiamo portato in Consiglio dei Ministri un nuovo codice della strada che era da 31 anni che aspettava di essere rinnovato. Metteremo mano in autunno al nuovo testo unico delle edilizie e delle costruzioni e qua voi ovviamente avrete parte rilevante in tutto ciò. Sono arrivato in ufficio e ho trovato 117 opere commissariate, le più diverse strade, autostrade, ferrovie, dighe, ponti, porti, aeroporti, caserme, scuole. E devo dire che in questa manciata di mesi i tre quarti di queste opere sono state riavviate, penso per parlare di un tema, perché poi l'emergenza climatica non penso che si affronti imponendo di sistemare il trilocale in giro per l'Italia a chi magari non ha 40 mila euro da mettere a disposizione. Il tema dell'acqua è fondamentale, c'è una diga in Sicilia, diga di Pietra Rossa, i cui lavori iniziarono negli anni 80 e i lavori stanno proseguendo e andranno a compimento nel 2023-2024. Quindi questa è l'idea di una macchina, non mi pagano per dire cosa non hanno fatto quelli che c'erano prima, mi pagano per dire che cosa sto facendo dal 22 ottobre ad oggi. Sicuramente rispetto al clima pesante solo di uno o due anni fa quando c'era questa benetta riforma del catastro e sembrava che l'Italia dipendesse dalla riforma del catastro e dai bagnini, perché se non si interveniva contro i proprietari dei casi, contro i bagnini e un po' anche contro i taxisti, l'Italia sarebbe stato un paese destinato al declino. Ritenevo ideologicamente ed economicamente e culturalmente sbagliato aggredire la proprietà immobiliare, la proprietà privata è sacra, è frutto di lavoro e sacrificio. Questo ovviamente si applicherà anche al tema degli affitti brevi. Ognuno deve essere libero di decidere come mettere a reddito il proprio immobile. Non penso che sia lo Stato a dover eticamente decidere dei tuoi due o tre appartamenti che cosa vuoi fare. Altro paio di mani che sono le grandi proprietà multinazionali, ma questo vale per l'immobile come vale per Amazon e come vale per altri settori. È chiaro che se fai profitto in Italia, usi i lavoratori in Italia e paghi le tasse all'estero, questo non funziona. Se poi tu hai tre appartamenti a Piacenza, a Milano, a Torino, a Firenze o alla Mezzia Terme e vuoi metterli a reddito a breve, a medio o a lungo termine, non penso che sia compito dello Stato decidere se lo devi fare a breve, a medio o a lungo termine. Siamo in un paese libero e quindi penso che l'economia di mercato vada... E siamo in totale sintonia con l'intero governo e quando si parlava, quando Foti parlava di un percorso meditato e condiviso, di questo si stava parlando evidentemente, quindi non vado a leggere quello che c'è sui giornali. A me interessa quello che arriverà come polpa in Parlamento e penso che siamo esattamente allineati dallo stesso punto di vista. Io mi rifiuto anche di chiamarla casa green perché ho imparato in questi anni che quando ti vogliono fregare mettono l'aggettivo green. Non c'è niente di green nel balzo felino di classe energetica, anche perché ad oggi entriamo nel merito delle ragioni sociologiche, i nonni, i bisnonni, però il 74% secondo gli ultimi dati del patrimonio immobiliario italiano, 11 milioni di immobili, non sono abbastanza green in base a quelli che vorrebbero tutto green. Io non penso che se mettiamo pannelli solari ovunque, cambiamo i serramenti, andiamo tutti in giro con la Tesla, mentre in Cina per venderci le Tesla aprono le centrali a carbone, faremo un grande passo in avanti dal punto di vista dell'emergenza climatica. Occorre ovviamente capire, avere buon senso. Come governo faremo di tutto per accompagnare in maniera razionale questa emissioni zero 2050, molto ambizioso. Ieri ero a Barcellona, alla riunione dei ministri dei trasporti, c'è anche l'obiettivo morti su strada zero nel 2050. Per carità di Dio, possiamo metterci anche fame nel mondo zero e pioggia durante i weekend zero, però poi non tutto è normabile. E lo dico dal ministro dei trasporti perché noi abbiamo più di 3.000 morti sulle strade italiane ogni anno. E io non posso andare come farò lunedì a inaugurare la quinta corsia sulla Milano-Laghi, la quarta corsia dinamica sulla Milano-Venezia e ragionare del passante di Bologna, del nodo di Firenze, del ponte sullo stretto con 3.200 morti. E' chiaro che però se il ministro Salvini domani emanasse una direttiva zero morti entro il 2050, mi prendereste perfesso. Perché è chiaro che puoi accompagnare, puoi nel nuovo codice mettere educazione stradale vera a scuola con i punti sulla patente per i ragazzi che fanno educazione stradale, più prevenzione, più controlli della stradale, patente ritirata, chi viene beccato sotto l'uso alla guida con uso di alcol e droga senza nessuna tolleranza perché se ti droghi sei un cretino, se ti droghi e se ti metti al volante sei doppiamente cretino. E quindi io la patente te la porto via senza se e senza ma, droghe leggere, droghe pesanti, droghe simpatiche o droghe antipatiche. Sul tema casa bisogna capire che patrimonio immobiliare abbiamo. Non penso che sia una rendita parassitaria perché nessuno ha vinto le case al superenalotto. Per la tradizione culturale italiana dei nostri genitori e dei nostri nonni non si andava in vacanza per lasciare ai figli o ai nipoti quei 50 metri quadri perché se andavi altrove senza lasciare qualcosa di concreto e di tangibile che potevano essere i buoni del tesoro, i cct o l'appartamento evidentemente non eri stato un buon genitore. Questo era, poi uno nel 2023 può sorridere, però il patrimonio immobiliare italiano è figlio di questo. Io penso che il bene casa in Italia sia sufficientemente tassato, anzi abbondantemente tassato. Io ricordo l'impegno perché quando sei al governo non puoi venire con fedelizia del... Mi piacerebbe, sei al governo, sei vicepresidente e consiglio, hai la delega della casa. Stiamo già attivando i soggetti pubblici e privati perché entro la fine dell'anno parta un tavolo sul piano casa. Io lunedì mattina sarò con gli amici di Lega Coppa, Cinisello Balsamo. Stiamo facendo un censimento con gli ACP e le ATER e le ALER di tutto il patrimonio pubblico ad oggi indisponibile. Io per venire ovviamente di fronte a una platea preparata non puoi arrivare con numeri a caso. Quindi tutti i piani di recupero dell'edilizia abitativa pubblica, 17.799 alloggi previsti e recuperati col piano nazionale di edilizia abitativa, 50.515 alloggi pubblici in corso di recupero con investimenti pubblici. Quello che sto seguendo direttamente, io sono 159 interventi in tutta Italia per il piano di riqualificazione dell'abitare con i fondi del PNRR, saranno 15.000 alloggi popolari in più. Questo lo faccio a prescindere dal fatto che una ragazza che magari abita in Brianza monti la tenda di fronte al Politecnico di Milano perché prendere il treno per mezz'ora è evidentemente climaticamente eccessivo rispetto alle abitudini di qualcuno. È vero, l'ultimo piano casa è di qualche decennio fa, perdonatemi se in dieci mesi non siamo riusciti a recuperare qualche decennio di distanza, però che il moderatore poco moderato si ritenga ruolato perché il tavolo del piano casa vi dovrà vedere insieme ai soggetti pubblici e sindacali assolutamente protagonisti. Non entro nel merito del super bonus, do solo un dato 130 miliardi di esborso pubblico per intervenire sul 3% del patrimonio edilizio nazionale. Apro e chiudo la parentesi. Sulla cedolare secca faremo di tutto per estendere questo principio di semplificazione più ancora che di incasso da parte dello Stato perché è una duplice convenienza. Io penso che i soggetti privati che io incontro, i concessionari autostradali, porti, aeroporti mi chiedono prima ancora che fammi pagare meno tasse e fammi perdere meno tempo. Quindi meno tempo si perde, il tempo è denaro ormai nell'anno del Signore 2023 e quindi visto che sarà una legge di bilancio dove non ci sarà tutto per tutti e quello che abbiamo lo metteremo per l'aumento degli stipendi e delle pensioni più basse, però la semplificazione spesso costa zero e quindi rinviare l'acconto su quello che ancora non hai guadagnato mi sembra un atto di civiltà giuridica, l'estensione della cedolare secca assolutamente ritengo sia utile per rimarcare il fatto che il Ministero che ho l'onore di accompagnare è quello che estate 2024 ha l'ambizione di aprire dopo 52 anni di dibattito i cantieri per il ponte sullo stretto di Messina che non è il ponte fra Messina e Villa San Giovanni ma il ponte è il completamento del corridoio Palermo-Roma-Milano-Berlino-Stoccolma, questo è oltre che essere un input per tutte le aziende italiane perché ovviamente il materiale per costruire il ponte, gli ingegneri, i tecnici, i geometri, gli architetti, gli operai, gli elettricisti non arriveranno tutti da Messina e da Villa San Giovanni, evidentemente Piacenza sarà coinvolta, Milano sarà coinvolta e Roma sarà coinvolta, però c'è il tema casa tanto che nella riorganizzazione del Ministero perché poi le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne abbiamo indicato una direzione ad hoc sull'edilizia alla cui guida abbiamo messo una donna molto in gamba del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché è un tema così importante ma non per l'emergenza quotidiana perché lo dico da milanese, ovviamente Milano sta vivendo un boom il cui fine mi auguro non ci sia mai ma è difficilmente ipotizzabile, però non tutta Italia è Milano, non tutti hanno l'immobile a Milano che ti dura due giorni se ti dura come annuncio e spesso non arriva neanche all'annuncio perché la domanda si incrocia con l'offerta, ma mentre il patrimonio nel centro di Milano parzialmente anche a Roma non perde di valore, in buona parte dei comuni italiani, io ricordo a me stesso e anche ai colleghi parlamentari che 5 mila comuni italiani su 8 mila hanno meno di 5 mila abitanti, quindi l'Italia non è Roma, Milano, Torino, Napoli, l'Italia è il borgo di 2 mila abitanti magari sull'Appennino-Piacentino in cui valore sta tragicamente scendendo e non per l'affitto breve evidentemente perché se uno non sta sull'Appennino-Piacentino non è per l'affitto breve ma è per una composizione sociale e un invecchiamento della nostra popolazione che non ha bisogno di nuove tasse, di nuove norme, di nuove regole per avere una limitazione, quindi questo è il tema, abbiamo orgogliosamente, ci è pesato, ci guardavano come bestie strane quando dicevamo no alla riforma del catastro perché sembrava che volessimo difendere chissà quale abuso, gli immobili fantasma possono e devono emergere anche domani mattina, anzi aggiungo senza nessuna ipocrisia, ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia? Sì, non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto lo Stato in cassa e i cittadini possano tornare nella disponibilità piena del proprio bene? Io penso che sia un ragionamento su cui occorre assolutamente andare avanti con coraggio fino in fondo, vi ringrazio e vi aspetto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.